Intelligenza artificiale, mondo digitale, cura della persona. E questo è il tema che viene affrontato quest'oggi all'Ariston Roof di Sanremo dai medici invitati all'un convegno organizzato dall'Ordine Imperiese insieme all'Ordine degli Avvocati. Ce ne parla il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Imperia, Francesco Alberti. È un tema importantissimo, un tema come ha detto giustamente a livello mondiale. Siamo uno dei primi ordini in Italia a trattare in un convegno questo importantissimo argomento. È un argomento che ovviamente, come dire, al di là della questione puramente tecnica, quindi della parte, come dire, ingegneristica, informatica, eccetera, però ovviamente include quello che è tutto l'ambito della medicina e soprattutto per quanto riguarda quello che potrà essere un domani rapporto medico-paziente. Un rapporto medico-paziente che da una parte sicuramente semplificherà determinati aspetti di quello che è la relazione quotidiana, ma dall'altra potrebbe essere anche, come dire, un po' un boomerang e far sì che poi il medico tralasci un po' quello che è il contatto umano col paziente. Ecco, queste sono due parole per dire quale sarà, diciamo, il futuro della medicina e sicuramente alcuni aspetti li conosciamo già, quello della telemedicina, del teleconsulto, che sicuramente sono stati uno strumento importantissimo e utile per tutti. Non dimentichiamo che la telemedicina potrà trasferirsi anche nei territori del nostro entroterra grazie appunto a quello che è l'informazione e a quello che è l'intelligenza artificiale. Un convegno che vede radunare personalità di spicco del settore? Assolutamente sì, abbiamo dei relatori che vengono ovviamente italiani, ma che vengono da tutte le parti d'Italia, dall'Emilia alla Toscana alla Liguria stessa e quindi direi un parterre molto interessante dal punto di vista culturale, scientifico e medico. Quando sono venuto qua al convegno a me è venuta in mente una tanto famosa pubblicità della team che faceva vedere il medico che poteva operare a distanza con il 5G. Però l'intelligenza artificiale è un'altra cosa. L'intelligenza artificiale è un'altra cosa, però non è un'entità atomica. Come dice lei giustamente, ed è nel mio pensiero costantemente, lei l'ha associata ad esempio alla robotica chirurgica a distanza. È una tecnologia, l'intelligenza artificiale che si integra con altre tecnologie, si integra con la robotica, si integra con l'IoT e qui emerge un problema ulteriore che è quello della cyber security. Nel convegno non viene menzionata, però è il falco che ahimè sorvola, domina questa integrazione di tecnologie. Insieme all'intelligenza artificiale la cyber security necessita di una presa di coscienza e di consapevolezza di quelli che sono i rischi tecnici. Non solo per noi ingegneri o ricercatori che lavoriamo su questo, ma anche per tutto il comparto socio-sanitario, cioè acquisire consapevolezza sui rischi e dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza artificiale connessa a tutto il mondo tecnologico, quindi consapevolezza a livello anche di cyber security e quindi di conseguenza come ad esempio noi ingegneri e ricercatori orientare le tecnologie affinché i rischi vengano ridotti ma le tecnologie siano usabili, cioè il cosiddetto, noi usiamo questo termine, il concetto di usabilità della tecnologia, anche se è sempre più sicura e comunque etica. Facendo sempre un ricordo cinematografico in questo caso, l'intelligenza artificiale a tanti fa venire in mente il film terminator, ovvero le macchine che hanno il sopravvento. Può esistere una cosa del genere in futuro oppure ce la dobbiamo dimenticare? Allora, una risposta oggettiva può essere, tutto può essere nella tecnologia. Allora in questo momento mi sentirei di dire che è difficile, però la ricerca va avanti. Con gli strumenti che abbiamo adesso personalmente la vede improbabile, cioè un dominio totale della macchina, sull'uomo lo vedo totale. Però lo dico adesso, con le conoscenze che abbiamo in questo momento, con le tecnologie che abbiamo in questo momento, il futuro è veramente un punto interrogativo. L'intelligenza artificiale può diventare un lato cattivo? Certamente può diventare un lato cattivo, credo che stia ai tecnici, a chi prende decisioni nell'ambito della politica sanitaria e soprattutto chi ha in mano la tecnologia e chi deve decidere come utilizzarla, sia gli scienziati, sia i tecnologi, fare in modo che questo non succeda. Onestamente, di fronte alle grandi innovazioni della scienza, c'è sempre il timore. C'è stato per, quando si è scoperto il DNA, immaginare che si potesse modificare, fare quello che si chiama gene editing, quindi la modificazione del nostro patrimonio genetico per scopi di eugenetica. È evidente che, sentivo prima l'ingegnere che citava Oppenheimer, le grandi innovazioni possono essere sempre utilizzate anche per scopi non necessariamente etici. Questo, come scientist, come scienziato, forse in qualche momento della mia vita, quando ho fatto questo e come persona che ha un ruolo di decisore, credo che non debba fermarci. Credo che l'intelligenza artificiale, in generale le scienze computazionali, ci diano delle prospettive che possono essere di enorme impatto, non soltanto su aspetti pratici. Lei citava prima l'opportunità di utilizzare una nuova tecnologia, anche le cose più banali, i software, che sono evidentemente poi quello che rende applicabile l'analisi del dato e la forza della potenza di computing. Ma credo anche l'aspetto che ritengo più innovativo sia quello di utilizzare le scienze computazionali per fare politica sanitaria, nel senso che le informazioni, che le normità del dato. Io credo che sia importante parlare, non so, del gemello digitale come modello per sviluppare una nuova politica sanitaria sia molto, molto importante. Chiaramente l'intelligenza artificiale, di cui forse si abusa un po' come termine, perché poi credo che la maggior parte delle persone non sappiano nemmeno, forse io stesso non so nemmeno cosa voglia dire, ma credo che questa sia la sfida più grande che ci abbiamo davanti. Grazie a tutti.